Una sorta di botte per imbalsamare il terreno attorno alla chiesa di Valle di Cadore per restituire sicurezza al luogo di culto minacciato da una storica frana. E' la sintesi progettuale individuata in seguito agli studi eseguiti da OGS e dall'Università di Parma sotto l'occhio vigile della sovrintendenza. Siamo felici di questa bella sinergia che è nata su questa situazione particolare e difficile, quindi potremmo usufruire di un finanziamento vaia che come per tutti gli altri dovrà essere contrattualizzato entro il 31-12. 1.100.000 euro l'importo dei lavori che inizieranno già domani con i sondaggi che si spingeranno a una profondità di 60 metri per dare un nome alla roccia su cui è appoggiata la chiesa, in passato torre romana, poi castello medievale e nel 700 luogo di culto. In Curia, con la sindaca di Valle di Cadore, affiancata da Tommaso Fornasiero della sovrintendenza e dal vescovo di Belluno Feltra e Renato Marangoni, il punto della situazione. Sono rimasto sorpreso del comportamento della comunità. Tutto era dovuto al fatto che anche il parroco è venuto a mancare ad aprile, subito dopo la Pasqua, e sono rimasto molto edificato. Quindi questo è l'elemento di maggior fiducia che mantengo, che ho e che penso abbia davvero aiutato tutti gli attori di questo tentativo di ricostruire la situazione e il sito. Sito che sarà rinforzato con cordoli ancorati agli strati rocciosi con il consolidamento del terreno. La sovrintendenza, dopo aver messo in sicurezza i beni mobili più preziosi della chiesa di Valle, ha previsto un piano straordinario di evacuazione del contenuto del sito nel caso in cui la frana dovesse improvvisamente riprendere a muoversi come è stato dopo la tempesta Vaia. È un po' il simbolo, la chiesa, di quello che è successo con Vaia e della fragilità del nostro territorio. Però ho potuto insomma toccare con mano l'aiuto delle altre istituzioni e col lavoro di squadra penso si possa sempre andare lontano e quindi sono ben contenta di poter affrontare questa sfida.